amore dobbiamo dire una cosa importantissima e poi dobbiamo andare a pagare da gloria io non pago, penso che stai dicendo quello che ho avvertito io io ho avvertito che l'impasto è cambiato si è cambiato e mi hanno detto che 400 gradi rispetto al 400 gradi di via Umberto quindi 400 gradi Sicilia Gommè 2.0 ha cambiato l'impasto e questo è un impasto alla napoletana quindi ora lo posso dire altro che pizza napoletana ora lo posso dire perché l'impasto è napoletano mi hanno massacrato l'altra volta va bene così ragazzi venite a provare questa meraviglia che è qualcosa di spettacolare ma sta già una perla di vino com'è? com'è? mamma mia vabbè ragazzi stop il video e ci vediamo alla cassa da gloria scelto no vabbè ora dobbiamo andare a pagare da gloria si va bene dobbiamo da gloria arrivederci è stato un piacere arrivederci come c'è andato? dobbiamo pagare ora allora allora ascoltami veloce veloce tu ieri hai fatto il compleanno scelto ma l'ho fatto io il compleanno? si ma ascoltami e non mi hai detto nulla no scelto sono venuto oggi a farti gli auguri scelto perché ti ho apprezzato scelto se ti ho apprezzato se venivo io ieri tu hai fatto la festa io non pagavo perché l'hanno mangiato tutti è giusto la teoria è giusta io ce la vengo non fa una piega ma il regalo è vero anche questo non fa una piega allora scusami che c'è il regalo allora sei un attimino così è benato regalista si è pizzica nuda ma scusa ora che è dalla timida nel locale scelto ti fa mangiare gratis ti fa mangiare gratis bevi gratis allora tu ti devi ascoltare perché tu non mi fai cambiare ma con la pianta no un gesto un gesto allora se io venivo ieri ascolto io venivo ieri io non mangiavo scelto come avevano mangiato gli altri scelto mangiava tu facciamo finta che io non potevo venire Luca tutto sfuttato non potevo venire no non li ho impidati perché Luca si mangiavano magari davvero lì non è che ci poteva venire scelto hai ragione sono venuto oggi sei una bella ragazza scelto salutare ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta con gli auguri di prosperità che tu possa festeggiare altri 100 compleanni ma non tu scudare perché ora non si ti aiuto mi sono delettorino e mi dice compleanno ma soprattutto scusatemi in bocca al lupo per 400 gratis c'è la gommè 2.0 in via Messina 245 lingua tranquillan GLOCHI